Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Tabriz 292x197. Questi tappeti sono annodati nelle botteghe della città di Tabriz nella Persia nord-occidentale. Sono tappeti robusti e resistenti all'usura, con velo corto e consistente. I motivi possono rappresentare un medaglione centrale attorniato da arabeschi, salici piangenti e cipresi. Un altro motivo apprezzato sono le quattro stagioni, che descrivono la vita dei contadini persiani in primavera, estate, autunno e inverno. Seconda scelta. La preghiamo di notare che, in tappeti più vecchi può verificarsi una certa usura. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.